Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Apriamo parlando di una sorta di resoconto di quanto è avvenuto negli ultimi due giorni in occasione di Fonderia Abruzzo, l'evento che si è tenuto a Sulmona. Ieri è l'altro ieri, due giorni di successo con impegni precisi che sono stati presi con il governo rappresentato nella circostanza dal ministro De Vincenti. Soddisfatto il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha parlato brevemente anche di quella che è diventata la polemica degli ombrelli. Vediamo. Un successo la due giorni sulmonese di Fonderia Abruzzo che si è tenuta nel weekend scorso con la partecipazione a Sulmona, fra gli altri, del ministro Claudio De Vincenti. Tanti i successi enunciati dal presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Tre risultati ci vedono soddisfatti. Il primo, il sì di De Vincenti per quanto riguarda l'accelerazione degli investimenti sulla Pescara Roma, che è presente all'interno del contratto di programma di RFI e Ministero delle Infrastrutture, prevedendo la cifra che ho detto e 15 milioni di euro per il progetto esecutivo di questo importante investimento. Ho anche messo in evidenza che per quanto riguarda la L'Aquila-Rieti ci sono 100 milioni di euro per l'innalzamento della velocità attraverso investimenti di elettrificazione. Il secondo grande risultato che abbiamo raggiunto è una ZES a favore di Abruzzo e Molise in corrispondenza di aree portuali e di aree retroportuali. La ZES è una zona economica speciale che azzera gli oneri fiscali e anche gli oneri amministrativi. Praticamente chi investe sul piano imprenditoriale non ha oneri, così come si facilita la vita delle infrastrutture all'interno di queste zone economiche speciali. Il terzo grande risultato è il 117 della Carta Costituzionale che è stato concordato da me e da Ceriscioli insediando organi comuni per problemi comuni. Per la prima volta dopo 16 anni Marche e Abruzzo concordano di usare questo potentissimo strumento costituzionale. Il primo risultato che noi assumeremo in questo cantiere è la velocizzazione dei tempi di percorrenza tra Ascoli e Teramo, occupando un investimento di 150 milioni di euro per una strada di 30 chilometri di distanza che aspettava da 30 anni di essere resa oggetto di cantiere. Partiremo con il progetto, abbiamo già fatto fronte comune con la presidenza del Consiglio dei Ministri e col MIT. Non è mancato poi un piccolo accenno del governatore alla polemica degli ombrelli con alcune ragazze che nella città Peligna, durante la tavola rotonda all'aperto, avevano mantenuto degli ombrelli per coprire gli illustri ospiti dalla pioggia. Io credo che la democrazia sia fatta davvero di progetto e anche di polemica. Questa polemichetta che è stata messa in campo, secondo me ci aiuta ad allungare il pensiero. Will e Caritas, diocesana di Pescara, insieme per favorire l'integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria. Questa mattina la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne Onlus, la Will Abruzzo e la Will Scuola Pescara, che darà inizio alla collaborazione tra le due realtà territoriali per l'avvio di un progetto di alfabetizzazione. Come è nata questa iniziativa con la Caritas rivolta ai rifugiati e agli immigrati che sono nella nostra provincia? Questa iniziativa nasce per la volontà del sindacato di porsi come uno strumento sul territorio volto naturalmente a occuparsi degli interessi globali di quello che può essere il cittadino. Pertanto è un percorso che portando queste persone all'interno di un pezzo della nostra società, che nel sindacato è il mondo del lavoro, ma anche l'integrazione, ma anche le politiche di pari opportunità, intende iniziare questo tipo di percorso. Quindi non sono delle lezioni finalizzate a un apprendimento puramente grammaticale, come si può immaginare, ma a offrire delle competenze che poi possono essere spese sul territorio e a offrire soprattutto delle nozioni su quello che è il nostro modo italiano di agire, la nostra cultura in senso molto più lato. Sicuramente è necessario ed è importante, per questo che ringraziamo la Will per questa possibilità che ci offre, perché tutto passa dall'imparare la lingua italiana per poter almeno capire e sapersi orientare. I migranti che arrivano sul nostro territorio non sanno nemmeno di essere in Italia, tantomeno conoscono Abruzzo e Pescara, per loro c'è solo il desiderio di una vita migliore. Questo ci può essere se si comincia a conoscere innanzitutto il paese dove si trovano, le regole che ci sono da rispettare e anche gli impegni che poi anche loro devono assumere nel rispetto di chi li accoglie. Noi come tutto il resto del nostro paese ci troviamo di fronte a questo fenomeno da numeri che forse qualche tempo fa nemmeno si potevano immaginare, però oramai ci siamo, sicuramente non possiamo avallare più una situazione del genere, però ora ci siamo e io mi appello al senso di responsabilità di tutti, delle forze politiche, forze sindacali, ma di tutti. Aveva creato nella sua abitazione un piccolo market per lo spaccio di droga, in particolare di cocaina, ascisce e marijuana, il via vai di persone nei pressi dell'abitazione, ha però insospettito gli agenti delle squadre mobili delle questure di Pescara e Chieti che nell'ambito di una operazione antidroga del weekend hanno fatto irruzione nella casa di un 28enne di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, dove in uno zainetto che la convivente, una 26enne indagata a piede libero per aver concorso nella detenzione a fini di spaccio, aveva tentato di nascondere. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due involucri in cellofan contenenti quasi tre etti di marijuana, circa 10 grammi di cocaina ed un piccolo quantitativo di ascisce, oltre ad un macchinario utilizzato per l'imbustamento sotto vuoto dello stupefacente. Il giovane, che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso al carcere di San Donato. In particolare la cocaina, una volta tagliata, avrebbe fruttato alcune decine di dosi. Sandro Mariani, capogruppo del PD in Consiglio regionale, il nuovo commissario comunale del Partito Democratico di Teramo. Mariani traghetterà il partito teramano verso il congresso di ottobre, già annuncia un nuovo progetto di rilancio. Tania Bonnici-Castelli. Da oggi inizia la fase commissariale per il PD di Teramo, dopo le dimissioni del segretario comunale Maurizio Angelotti. Lo ha deciso il segretario regionale Marco Rapino, individuando nella figura del capogruppo alla regione, Sandro Mariani, il traghettatore politico sino al congresso di ottobre. E' stato un po' criticato questo commissariamento, ma era necessario? Allora era più che necessario, secondo me obbligatorio. Cioè qui sono state le dimissioni del segretario dell'Unione Comunale a Teramo. Abbiamo provato a fare un coordinamento per gestire il tutto, stiamo parlando della città di Teramo, quindi non di un piccolo circolo. Dopodiché bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità su questa città verso un partito, verso la cittadinanza innanzitutto, ma verso un partito grande come il PD. Quindi ci vuole il commissario, ora noi lo chiamiamo commissario, ma può essere coordinatore, può essere chiamato in qualunque modo, che accompagni sulla città di Teramo a ricostituire gli organi che si sono dimessi. Molto semplice, non c'è, non credo, questa polemica la vedo sterile, insomma è sciocca. Il nuovo commissario, Sandro Mariani, promette di non andare in vacanza e di lavorare sodo fino al congresso, insieme ad una squadra composta prima di tutto da consiglieri comunali e dal presidente della provincia, Renzo Di Sabatino. Lei traghetterà questo partito, il PD Teramano, al congresso. E durante questo periodo che cosa farà? Sicuramente in un momento molto difficile e complesso ci sarà un atteggiamento inclusivo con i consiglieri comunali che sono legittimamente eletti nel Partito Democratico avremo modo di sederci e studiare la strategia, così come tutti gli altri elementi che sono rappresentativi dentro il partito della città, per poi fare un percorso insieme e studiare le strategie migliori per ritornare a parlare di temi nella città. Perché questo partito si è sfilacciato? Penso che il problema non è soltanto a livello locale, anche a livello nazionale, è un momento in cui i partiti hanno perso un po' la loro identità, la loro credibilità e va ricostruita non solo sui giovani e nuovi volti ma anche con i contenuti. Unità, inclusività e nuove alleanze sono le parole d'ordine per un partito che a Teramo vuole ripartire dopo litigi interni e abbandoni autorevoli. Provincia dell'Aquila si vota il 30 luglio per conoscere il nome del futuro presidente che prenderà il posto di Antonio De Crescentis. Nonostante la riforma la provincia fa gola a tanti e sono in corso manovre politiche e riunioni di partito. Il servizio di Daniela Rosone. Il 30 giugno la provincia dell'Aquila andrà al voto per rinnovare il Consiglio ed eleggere il nuovo presidente. Il successore di Antonio De Crescentis, ex sindaco di Pratola Peligna, è netto nel 2015 e decaduto lo scorso 12 giugno per effetto della cessazione del proprio mandato da primo cittadino. Non saranno elezioni dirette. Per effetto della riforma del Rio, infatti, le province sono state sostituite da assemblee formate dai sindaci dei comuni che fanno parte della provincia da un presidente. È previsto anche il Consiglio provinciale, formato dal presidente della provincia e da un gruppo di 10-16 membri, in base al numero degli abitanti della provincia che sono eletti tra gli amministratori dei comuni interessati. Il Consiglio provinciale dell'Aquila è formato da 10 consiglieri più il presidente e sono 1.223 gli elettori tra sindaci e consiglieri chiamati al voto. La provincia continua ad avere settori chiave come l'edilizia scolastica, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, i trasporti e le strade e dunque, anche in questo caso, ci sono manovre e trattative in corso. Il centrodestra ha deciso di puntare sull'attuale sindaco di Navelli, Paolo Federico, di Forza Italia, consigliere provinciale uscente, ma sarà, ago della bilancia, Andrea Gerosolimo, che ha molto controllo nella Valle Peligna. L'assessore regionale può mettere infatti sul piatto le vittorie di De Angelis a Avezzano e della di Nino a Pratola, tutte e due sono dei suoi fedelissimi, nomi che vanno ad aggiungersi a quello del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Nelle ultime ore si sta facendo strada anche l'ipotesi di Pierluigi Biondi, il presidente della provincia dell'Aquila potrebbe essere proprio lui, fresco del successo, inatteso e sperato, contro Amerigo di Benedetto al Comune dell'Aquila. L'assessore regionale Donato Di Matteo stamani ha accolto la compagnia tradizionale Val d'Abruzzo di Rosario, associazione composta da abruzzesi che vivono in Argentina. L'associazione in questi giorni farà esibizioni in diversi centri della nostra regione. Donato Di Matteo è una giornata anche di festa, lei oggi ha accolto in regione una ampia delegazione di questa associazione folcloristica di abruzzesi in Argentina. È stata una giornata toccante, ascoltare tutti questi abruzzesi dell'Argentina che hanno costituito questo bellissimo coro che è collegato all'associazione degli abruzzesi di Rosario, è una cosa veramente bella, toccante, sono certo che rappresenta un altro punto di forza del nostro Abruzzo distribuito nel mondo. Questo grande mondo degli abruzzesi è una grande potenzialità per la nostra regione. Spero che si coltivi fino in fondo le potenzialità che può esprimere. Ieri è cominciata la vera gira abruzzesa, siamo stati al mio paese, a San Valentino, accolti dal coro dove ci stanno i miei parenti, mia amica cugina Tiziana Mastro di Casa. Stasera facciamo parte della Settembrata che guida Gabriella Serafini, a chi voglio ringraziare. Sarà una giornata magnifica. E poi se non sbaglio a Casalbordino, a Fossaccesia, a Lanciano, a Lama dei Peligni, saremo ospite di Camminando Insieme a Chietti e resteranno tre giorni di lavoro importantissimo dal 10 al 13 con la compagnia teatina per le tradizioni abruzzese, guidata dal professore Stoppa. Lì ci metteremo all'entroterra abruzzese a fare mietitura, a fare cucina, a fare canti, a fare tessuti, a imparare le vere tradizioni. Poi ci sarà anche l'Unione del Cram, peraltro proprio a Rosario nei prossimi mesi. Abbiamo pensato quest'anno di riportarlo lì in Argentina e sarà un'iniziativa veramente interessante. Abbiamo previsto che spenderemo di meno di quello che si spenderebbe se si facesse qui in Italia, per cui questa volta, dopo tre iniziative fatte in Abruzzo, abbiamo deciso di rifare un'iniziativa lì, in Argentina e a Rosario. Ora parliamo della vicenda Accord Fenix all'Aquila. Dopo le dimissioni del principale finanziatore, i sindacati vogliono vederci chiaro sul futuro di circa 120 lavoratori che dovevano essere impiegati nell'azienda del polo elettronico. Accord Fenix, quale futuro? Parliamo dell'azienda che doveva rilevare il polo elettronico, gran parte del lavoro di esse, che si occupa dello smaltamento di rifiuti elettronici. Le dimissioni del principale azionista, l'imprenditore inglese di origine indiana Ravi Shankar, presidente del CDA della Accord Fenix, aprono molti interrogativi nei sindacati, che chiedono ora certezze sul futuro di circa 120 lavoratori che dovevano essere impiegati e che al momento sono ancora a casa senza lavoro. Sono dimissioni da noi apprese dagli organi di informazione, quindi non comunicati dall'azienda e ci preoccupano moltissimo in quanto siamo parlati del soggetto principale di tutta l'operazione Accord Fenix, del proprietario del 90% delle azioni, di quello che ha portato tutto il finanziamento per fare l'operazione. Quindi ci preoccupo, vorremmo sapere dall'azienda cosa significa, chi prenderà il suo posto, se questo significa che l'ingegner Ravi si difila dell'operazione oppure c'è ancora con tutti. Quindi bisogna capire, ritengo fondamentale capire, anche perché in questo momento l'azienda sta facendo i lavori che sono stati imposti per poter fare la riapertura perché ancora oggi è sotto sequestro, anche se hanno il permesso per fare i lavori. Quindi noi vorremmo sapere dall'azienda, non certo dai giornali, purtroppo abbiamo saputo delle cose dai giornali. Quale sarà il futuro dopo queste dimissioni? Presentata questa mattina a Pescara la convenzione firmata da CNA Abruzzo e dal circuito Abrex per lanciare uno strumento di credito alternativo a disposizione delle aziende. Vogliamo spiegare cosa farà Abrex con la CNA in concreto? Abbiamo, come dicevo, lo stesso tipo di approccio rispetto alle problematiche relativi alle difficoltà economiche che in questo momento hanno il nostro territorio, ma non solo il nostro territorio, ma tutta l'Italia. Quindi noi insieme a loro riusciamo sostanzialmente sulla parte relativa alla capacità di finanziamento che le aziende riescono a trovare attraverso Fidi Impresa, attraverso il sistema di Fidi di CNA, una selezione di quelle che sono le aziende che magari hanno qualche difficoltà in più e che da noi hanno la possibilità di essere finanziate perché per noi è importante molto di più la capacità produttiva, la capacità di penetrare nei mercati piuttosto a quelli che sono i parametri che magari un sistema bancario non riesce a capire. Cioè per noi un'azienda che ha prodotti può andare bene per noi, un'azienda che ha prodotti per una banca non va bene se non ha tutti i conti a posto. È un'iniziativa interessante che può portare frutti importanti per le nostre imprese, è un circuito serio, affidabile, chiaramente si tratta di una moneta virtuale che sarà complementare all'euro, non pensiamo sicuramente di sostituirlo, ma di questi tempi di crisi anche di credito bancario può rappresentare un buon veicolo per aumentare i volumi e le attività delle nostre imprese. Se noi vogliamo fare un buon lavoro non ci dobbiamo rivolgere solo a quelli che hanno qualche problema e qualche difficoltà, ma anche alle aziende sane che possono affiancare al credito bancario questo credito Abrex che viene scambiato tra le varie imprese che fanno parte del circuito con prodotti e servizi e quindi possono completare bene la loro gamma di attività. L'associazione Sofia si è giudicata la gara per la gestione della biblioteca Antonio Russo di Francavilla al Mare. Da oggi nuovi orari e più servizi illustrati stamani dall'amministrazione comunale. Devis De Luca, nuovi servizi, nuovi orari per la biblioteca Antonio Russo qui a Francavilla. Tutte le mattine dalle 9 alle 13, tra lunedì al venerdì e i pomeriggi, quindi ampliamo da 20 ore a 32 ore passiamo di servizio, proprio per incrementare i servizi già presenti nella nostra biblioteca, poter lavorare meglio. Anche questo orario è stato pensato soprattutto per le scuole, per lavorare bene con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e ovviamente i cittadini che possono finalmente venire tutte le mattine in biblioteca e i pomeriggi che già apriamo al pubblico. Sono stati implementati poi i servizi di catalogazione, quindi andando sul sistema Abruzzo Interbiblio, che è un sistema di biblioteca comune che coinvolge anche Lanciano, Pineto e Roseto, che conta su 180 mila documenti complessivi. Inoltre abbiamo la partecipazione più attiva con le associazioni locali attraverso delle convenzioni che stiamo facendo man mano con le pari associazioni culturali del territorio e che permettono appunto di creare quella che è un po' l'idea anche che abbiamo visto con il vice sindaco Buttari della biblioteca sociale. Facciamo ormai da sempre progetti di inclusione sociale con loro, con l'attivazione di borse lavoro. Abbiamo gestito già con la biblioteca un progetto importante di alternanza scuola-lavoro in rete anche con il liceo scientifico. Vogliamo crescere ancora di più, mettendo in rete tutte le associazioni, tutto il patrimonio culturale e non solo della città. Credo che nel ripensamento proprio urbanistico di una città la biblioteca abbia un ruolo fondamentale proprio come collettore e centro di incontri. Da oggi rilanciamo questo progetto proprio per un 2.0. Aspettando il circuito di Pescara e il titolo della manifestazione che si è tenuta a Loreto Aprutino su impulso del Rotary Club Vestino Penne Loreto e che anticipa la rievocazione della Coppa Acerbo, il servizio della redazione di Vestina News. Sto vedendo questi disegni bellissimi fatti da questo signore molto bravo. E poi è la coronazione di tutto un bellissimo raduno di personaggi che si ricordano di Tito Acerbo e di Giacomo Acerbo. Cioè il titolo eroe è Giacomo Acerbo, l'uomo grandiosamente vissuto tra fascismo, monarchia, repubblica, ha avuto il premio dell'uomo che ha fatto un sacco di cose bellissime e ha ricevuto la medaglia d'oro per l'istruzione. Quindi questo dà segni che era ormai il Presidente della Repubblica italiana. Si è concluso adesso l'incontro sul novantesimo della provincia di Pescara. Ci sono stati interessanti interventi. Abbiamo ricordato delle figure che oramai sono consegnate alla storia. Tito Acerbo, Giacomo Acerbo, Gabriele D'Annunzio. Abbiamo ricordato degli eventi che altrimenti rischierebbero di essere dimenticati. Voglio ricordare che questo è stato organizzato, questo evento è stato organizzato dal Rotary Club Vestini Penne Loreto. Ovviamente il tutto è stato reso possibile dalla disponibilità dell'amministrazione comunale di Loreto che ci ha consentito di utilizzare addirittura la sala consigliare. Veramente sono soddisfatto di questo evento. E ora apriamo la pagina dello sport. Sarà presentata giovedì 6 luglio nella sala Tosti dell'Aurum di Pescara la settantesima edizione del trofeo Matteotti. Si parteciperanno i vertici di Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Pescara, Coni e Federazione Ciclistica Italiana. Saranno presentate nel corso della cerimonia le squadre presenti alla corsa e le novità legate alla settantesima edizione in programma il prossimo 16 luglio sul tradizionale circuito cittadino che abbraccia i comuni di Pescara e Montesilvano. Il presidente dell'Unione Ciclistica, Fernando Perna, e del comitato organizzatore, Renato Ricci, annuncerà anche le decisioni sul futuro della classica pescarese che nel 2018 si correrà a settembre. Ed ora il calcio. Il mercato del Pescara potrebbe presto registrare l'arrivo del nuovo centravanti Simone Andrea Gans. Il Delfino infatti, nonostante l'inserimento del Palermo, ha in pugno la volontà del calciatore che ha scelto di sposare la causa bianca-azzurra. Un take sperando che l'anticipo riesca, il pericolo svanisca, singolare come il Pescara per prendere la sua punta sia costretta ad una giocata da consumato difensore. Per arrivare a Simone Andrea Gans, infatti, il Delfino cerca di respingere l'insidia Palermo per avere il centravanti che Zeeman ha scelto come centrale all'interno del tridente che ha in mente. In realtà la questione sembra essere reciproca perché anche Gans, da tempo in contatto e in accordo con la dirigenza bianca-azzurra, la sua scelta sembra averla fatta, nonostante l'inserimento del Rosanero. D'altronde, in casi come questi, contano i soldi, è vero, ma non solo. Anche e soprattutto la volontà del giocatore fa la differenza e per questo, nonostante lo scarto che separa le due offerte, 2 milioni il Palermo, 1,7 il Pescara, l'Ambruzzo sembra davvero essere la prossima tappa del centravanti figlio d'arte. Per questo i contatti con la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, non si sono mai interrotti e potrebbero presto portare alla fumata bianca. Anche considerando il fatto che le alternative Vido e Tuminello, per motivi differenti, non sembrano praticabili. Il primo è stato ufficialmente acquistato dall'Atalanta via Milan, mentre per il secondo a parlare della sua gente, Andrea Manfredonia, che smentisce accordi con altri club e aspetta di partire con la Roma per il ritiro di Pinzolo, per lasciare che sia Eusebio Di Francesco a dare la valutazione definitiva sul fatto che Tuminello possa restare o debba andare a giocare altrove. Solo se così dovesse essere, ecco che il Pescara sarebbe in posizione di assoluto vantaggio rispetto alle concorrenti. Con l'Udinese, la trattativa per Coulibaly è avviatissima, 2 milioni più 2 di bonus, questa è l'offerta dei friulani per avere il senegalese, che però pretenderà garanzie di poter giocare con la prima squadra e non con la primavera, particolare questo che ha fatto saltare l'affare già virtualmente chiuso con l'Inter. Ma con la società dei Pozzo si parlerà anche del possibile addio di Francesco Zampano alla maglia biancazzurra per colmare la partenza di Wittmer. Probabile che l'Udinese provi ad inserire una contropartita tecnica per arrivare al giocatore. A proposito di addi, oggi vertice decisivo tra il Delfino e l'Avellino per il portiere Mirko Pigliacelli, incontro che dovrebbe servire a formalizzare gli accordi tra le due parti con il portiere che si avvicina a rapidi passi verso la squadra campana. Ed ora in Lega Pro, anche in casa Teramo è il momento del mercato, vediamo le ultime novità in questo servizio. Quasi sfumato l'arrivo di Bobbi in maglia Teramo col Gambiano destinato a raggiungere Trapani, probabilmente nell'affare Coronado per il Diavolo sembra essere in vista una seconda beffa e potrebbe riguardare Tiziano Tulissi, che sembra indirizzato a raggiungere Sannino e la Triestina. In realtà sarebbe un arrivo sfumato, ma che potrebbe non fare poi così male, visto che in quella posizione la società biancorossa è vicinissima all'arrivo di Candido, trequartista ex Bassano, che piace molto al tecnico Antonino Asta. Sarebbe il primo arrivo ufficiale di una nuova stagione che dopo gli innesti di Asta, appunto, e ripeto, domani vedrà l'ufficializzazione e relativa presentazione del nuovo direttore generale, Emilio Capaldi. Il Neo DG dovrebbe tenere una conferenza stampa allo Stadio Bonolis, prendendo il posto di Gianluca Scacchioli. Dunque con pagine dirigenziale e tecnica totalmente rinnovata in casa Teramo, che sta valutando anche delle cessioni per smagrire una rosa ancora troppo folta e ancora troppo costosa per pensare di ripartire con uno slancio diverso. A centrocampo, tuttavia, potrebbe tornare, dopo l'amare esperienza di Taranto, Lorenzo Paolucci via Pescara. Il ragazzo la scorsa stagione ha fatto vedere buoni numeri e l'annata disgraziata in Puglia gli è servita per maturare ulteriormente. Se dovesse rivestirsi di bianco-rosso Asta potrebbe contare su una mezzale in grado di garantire qualità nella zona nevralgica del campo. Un altro prospetto biancazzurro, e che il Bonolis, seppur con colori diversi lo conosce bene, è Alessio Milillo, centralone che ha giocato a San Nicolò, ma che in coppia con il confermato Altobelli formerebbe la cerniera centrale di scorta rispetto a Caidi e Speranza. In attacco per Polidori non si registrano molte novità, ma il mercato potrebbe entrare presto nel vivo, visto che tra due settimane il diavolo parte per il ritiro, e nonostante Asta continui a predicare calma e fiducia, ancora non vede l'abbozzo della squadra che sarà. Ed allora è evidente che l'inizio di questa settimana potrebbe regalare i primi colpi di mercato, sia in entrata, sia in uscita. Sul piede di partenza, infatti, ci sono Imparato, che andrà via rescindendo il contratto, e Baccolo, che quasi certamente potrebbe avere un destino simile. Poi toccherà agli altri, e non saranno molti quelli che il Teramo confermerà dopo una nataccia come quella appena messa alle spalle. E ora scendiamo nei dilettanti, ore decisive per le sorti del Francavilla Calcio, che cerca il ripescaggio in serie D, ma prima c'è da risolvere il nodo del passaggio di proprietà delle quote societarie dopo l'addio dell'ex patron De Vincentis. Abbiamo avvicinato a tal proposito il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. Il sindaco Luciani c'è l'incognita calcio a Francavilla, con un ripescaggio che è molto concreto, ma c'è il nodo societario da sciogliere. È venuto fuori il nome di Vincenzo Serraiocco, noto commercialista pescarese, però questa trattativa con l'uscente De Vincentis sembra essere incagliata. Allo Stato qual è la situazione? Ieri, nella giornata di ieri, mi sono visto con il presidente De Vincentis, abbiamo fatto il punto della situazione. Io ho manifestato al presidente la volontà di questa città di partecipare al campionato di serie D e quindi ho auspicato che qualsiasi soluzione venga presa consenta di presentare la domanda, le fede di uscioni, di pagare ciò che c'è da pagare. Ho trovato il presidente De Vincentis abbastanza sereno in questo, mi ha garantito su questo punto. Le trattative sono diverse, ci sono diversi gruppi che vogliono fare calcio a Francavilla. Ora lui sceglierà quello che reputa il migliore anche in base alle sue esigenze, ma soprattutto in base alle esigenze del Francavilla a calcio. Sono fiducioso e quindi in un senso o nell'altro avremo un nuovo presidente e quindi una società che proverà ad iscriversi al campionato di serie D. Quindi non hai detto sia Serraiocco il nuovo presidente del Francavilla? No, una delle possibilità è quella di Vincenzo Serraiocco, il quale ho sentito anche telefonicamente, mi sembra, ieri o l'altro ieri. Lì si è incastrata la trattativa. Poi io nei dettagli sinceramente non ci entro perché faccio il sindaco e non faccio né il presidente della squadra calcio. Mi interessa che questa squadra si iscriva al campionato di serie D, ma non posso entrare nei dettagli delle trattative. Non so quale sia stato il problema tra De Vincentis e Serraiocco, qualche problema è sorto, però diciamo che è ancora in corsa. si può ancora fare tutto. Finisce qui anche la terza edizione del TG6 che torna domani alle ore 14 con la prima edizione. Grazie per l'attenzione e buonanotte. 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 Grazie per l'attenzione e buonanotte.